Beressi quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua In questo video per andare un po' a parlare dei recuperi di eccellenza Quest'oggi giocate due paite su tre in realtà Perché si doveva giocare anche Scalia Gallico Recupero che in realtà era derivante da un rinvio di qualche mese fa Ormai praticamente un mese che è arrivata questa partita Si è deciso di recuperarla quest'oggi Almeno sulla carta perché per accertamenti Covid Per evidentemente positività in casa Gallico Comunque presunte tali La partita è stata ulteriormente rinviata A questo punto sembra essere veramente una partita Bo, ingiocabile Vedremo quando sarà la prossima data Però si spera che possa essere comunque recuperata e basta Perché ormai si sta prorogando questa partita Per tanto tempo e speriamo che non continui Cioè si risolva questa situazione qui in casa Gallico Perché è comunque anche Potrebbe essere deleteria per quello che è poi la ripresa del campionato Tra qualche settimana, anzi tra qualche giorno ormai Perché tra poco riprenderà il campionato Per cui è importante anche valutare la situazione in casa Gallico I meriti positivi perché Dovessero comunque aumentare Così come è capitato anche alla regina stessa Parlando di calcio Sicuramente non sarebbe una bella cosa Quindi nulla La classifica che vede lo Scalià ancora 15 E il Gallico ancora 18 Ma entrambi devono recuperare sta appena detta partita Però le altre due squadre Le altre quattro squadre L'Ocri-Acri e Leggio Med Soriano Fortunatamente sono scese in campo E sono arrivati due vittorie per le squadre di casa Certamente importanti La Leggio Med schianta 3-0 il Soriano Senza lasciare spazio ad altri discorsi Gol quest'oggi di Lancioni, Puntoriere e Gonzales Per la Leggio Med di Mister Misiti Che in ottica playoff ha quelli tre punti importanti Anche perché affrontava una squadra che Il Soriano è ancora appena dietro La zona playoff Quindi con questi tre punti La Leggio Med va più setta dal Soriano E crea un solco abbastanza importante Proprio tra lei stessa e l'ultima squadra Anzi la prima squadra fuori dai playoff Che è proprio il Soriano Quindi vittoria moltipata in questo senso 3-0 senza problemi Diciamo almeno per quanto mi può dire il risultato Con questa vittoria Leggio Med Che accorcia sulla Morrone Seconda che attualmente si trova Solo i tre punti di vantaggio sulla Leggio Med Ma anche sulla Paolana Perché con 26 punti A 26 punti c'è anche la Paolana Quindi vittoria importante D'altro canto sconfitta pesante Per un Soriano Che sta un po' faticando Ecco dopo un'ottima Prima parte di dicembre Seconda parte di novembre Dove il Son ha fatto molto molto bene Adesso ultimamente un po' balbettanti Qualche punto perso qua e là Certo andare in casa da Leggio Meditano E pensare di vincere Non è mai semplice Portare via punti Dalla trasferta di Mareggio Calabria Però certamente Il Soriano Sta un po' faticando in questo periodo Nel senso che Qualche punto per strada Al di là di chi affrontava Lo ha perso E' comunque a meno 4 La Sersale Che occupa il quinto posto Quindi la zona playoff è lì Però il Soriano sta già facendo Molto bene così Non deve essere un assillo Per la formazione di Mr. Marasco L'aggiungimento dei playoff Deve essere un sogno Un obiettivo Non utopico Ma comunque un obiettivo Praticabile Raggiungibile Ma che non deve Rappresentare Un assillo Per quanto riguarda La Torre Cooper Il Locri Vince un'altra volta Dopo la vittoria In Coppa Di ormai una settimana fa 6 giorni fa La vittoria comunque In Coppa Italia proprio contro l'Acri Si ripete anche in campionato E vince quindi 4 a 2 Quest'oggi Risultato Con Vita con Ancora più gol Rispetto a quella di Coppa Italia Ed una vittoria Che conferma Un Locri Che ormai Con questa categoria Ha poco a che fare O comunque Si dimostra Più forte Rispetto alle altre In questo momento Questo è Una vittoria che Vede a segno Per quanto riguarda Il Locri Catania Sapone Carella E Romero Ultimi due Ex Sanluca Che a Locri Stanno facendo Molto molto bene Per l'Acri Segno Gaudio E le piane Che si sta Abbastanza confermando Qualche golletto Quella lo fa Anche se Diciamo che Non posso aspettarmi Che qualcosa in più Ecco Si conferma sicuramente Due cose Un Locri Devastante Che in casa Continua a vincere Ma anche fuori casa Ha vinto La Coppa Italia E ormai Siamo più vicino A fare il doblette Perché Anche visti i punti Perse La Morrone Locri che ha 39 Ha più 10 Della Morrone Seconda Se Locri Perde 10 punti Nel giorno di ritorno Veramente Merita di non andare Prima E merita assolutamente Di non andare In serie D Perché Suicidarsi così Veramente Vorrebbe dire Veramente un suicidio Atomico Perde 10 punti Di vantaggio Così Sarebbe veramente Un suicidio atomico Per un Locri Che sembrerebbe Ormai essere in D Ma lo è Da diverse settimane La squadra Certamente più continua E anche Forse costruita meglio Rispetto alle altre Per poter fare Questo tipo di campionato D'altra parte Un Acri Che si conferma L'altra conferma Che in trasferta L'Acri fatica Certo Andare a vincere L'Ocri Non è mai semplice Anzi Molto molto Difficile E anche quasi impensabile Però Certamente L'Acri in trasferta Deve fare qualcosa di più Perché ha raccolto 17 punti Fino a questo momento Solo i due punti di vantaggio Sullo scalea Che è in zona play out E diciamo Che soprattutto In trasferta Quest'anno Ha peccato l'Acri Perché Di questi 17 punti Ne ha fatti tantissimi In casa Però in trasferta Sono arrivate molte Molte sconfitte Tanti punti persi Ed è certamente Un fattore su cui Mister Pascuso Dovrà anche lavorare All'edà di questo Recuperi Che quindi Cambiano un po' La classifica In attesa Dell'ultima Giota Le giorni d'andata Perché ormai Siamo al giro Al giro di Boa Siamo ormai arrivati Alla fine Le giorni d'andata E Per le squadre Che è successo in campo Quest'oggi Le partite Che si profilano Sono partite importanti Perché La Reggio Medva In casa Della Morrone Uno scontro fondamentale In ottica Migliore posizionamento Possibile In la veglia Playoff Il Sudiano Ospita il Sessare Una bella partita Una partita Dove squadre Comunque Che fanno Hanno fatto vedere Buone cose Fino adesso Giocano un buon calcio Quindi sarà Sicuramente una bella sfida In cui il Sudiano Gioca in casa E vorrà certamente Portare via i tre punti Per poter accorciare Sul Sessare stesso Il Locri Belgetto No Il Locri Va a Gallico Voto il Gallico Catona E qui Bisogna un attimo Capire se il Gallico Giocherà o meno E l'Hacro Ospita la Sfilo Monastra C'è una partita Che attualmente Sa di scontro Per evitare la salvezza Ma l'Hacro E tra le mura amiche Deve ottenere Proprio in ottica Salvezza E anche Cercare di fare Qualcosa in più Nel giorno di ritorno Per poter anche Pensare di Impenserire le squadre In zona playoff Deve ottenere i tre punti Ma ripeto Ancora c'è tempo Per preparare la partita Perché Si giocherà il 5 gennaio Quindi ancora Qualche giorno di tempo Per preparare Le diverse partite Cioè A questo punto mi fermo Ci vediamo con un prossimo video Ciao ragazzi